Il dolore di una coppia che non può ricevere la comunione, la fatica di una mamma sola, la malattia di un giovane adolescente, ma anche la forza dell'amore di Dio che incoraggia e rigenera. Le testimonianze di quattro famiglie hanno inaugurato l'incontro con Papa Francesco nello stadio Victor Manuel Reina di Tuxtla Gutierrez. Oggi la famiglia è indebolita e messa in discussione su diversi fronti, considerata quasi un modello superato, ma Papa Bergoglio ha chiesto a tutti di non smettere di credere in questo sogno perché è la base della società. Preferisco una famiglia che ogni giorno cerca di coniugare l'amore, ha detto, a una società malata per la chiusura e la paura di amare. Preferisco una famiglia che una volta dopo l'altra cerca di ricominciare, a una società narcisistica e ossessionata dal lusso e dalle comodità. Preferisco una famiglia con la faccia stanca per i sacrifici, ai volti imbellettati che non sanno di tenerezza e compassione. Non esistono famiglie perfette, l'amore non è facile, ha proseguito Papa Francesco, ma l'importante è coltivare la pazienza e la capacità di sapersi perdonare, facendo la pace tutte le sere per non innescare una pericolosa guerra fredda. La vita matrimoniale si deve rinnovare tutti i giorni, ha concluso, perché le ferite, le cicatrici e le rughe sono il segno di una vita trascorsa insieme. Grazie. Grazie. Grazie.